I medici dell'Associazione ISDE con l'obiettivo di tutelare la salute dei cittadini di Massafra chiedono agli amministratori di essere informati e poter accedere agli atti prodotti o posti in essere in relazione al conferimento di rifiuti solidi urbani provenienti dal comune di Trani presso la discarica CISA di Massafra. A quanto pare dal 1 novembre i rifiuti di Trani non vengono più smaltiti nella struttura di biostabilizzazione di Passo Breccioso nel Foggiano a causa di un aumento dei costi, ma nella struttura di Massafra che avrebbe proposto un'offerta più vantaggiosa al comune di Trani. Al momento, scrivono i medici, non si sa quando terminerà questo servizio non legato ad un'emergenza ambientale o sanitaria. Pertanto, in assenza di un provvedimento del commissario d'acta regionale non trovato nei bollettini ufficiali della regione e per evitare che la città di Massafra possa essere vittima di una mera operazione economica in danno della collettività, l'ISDE chiede di poter esercitare, come previsto dalla normativa, ad ogni procedimento amministrativo che il comune massafrese stia eventualmente dando seguito, come l'impugnazione del provvedimento del commissario d'acta per contrastare il conferimento in discarica secondo il principio di precauzione in un'area ad elevato rischio di crisi ambientale come Massafra.